Innanzitutto questo progetto nasce da un'esigenza. Con la chiusura delle scuole alcuni amici professori, maestri e anche docenti universitari mi hanno informato che avevano grossi problemi a fare didattica a distanza con i loro ragazzi e quindi mi hanno chiesto personalmente di dargli una mano, qualche consiglio, eccetera. E' nata così proprio l'idea di dire perché anziché aiutare solo poche persone non aiutare un po' tutti. Ed è nata l'idea di allargare questa cosa a tutta Italia ad una community di colleghi fondamentalmente. Noi tutti lavoriamo nel campo del digitale, del marketing, della comunicazione ed è stata questa l'idea. L'idea è venuta fuori il sabato e domenica mattina già con le prime persone abbiamo iniziato a lavorarci e martedì mattina eravamo già online. Allora diciamo subito a chi è rivolto questo progetto. Sì, diciamo che il progetto è rivolto ai docenti, ai genitori, ai professori che magari si trovano in difficoltà in questi momenti ad utilizzare le piattaforme per fare didattica online. Quindi la difficoltà da accendere una webcam, a collegare un microfono, a impostare, non lo so, una posta elettronica. Insomma quelle piccole cose che magari uno si trova già pronte nell'istituto dove insegna, ma che poi quando uno arriva a casa dice ok lo so fare. No, non lo so fare invece. Quindi insomma può rivolgersi al sito aiutiamolascuola.it. Lì ci sono dei campi da riempire molto semplicemente. Noi giriamo poi le richieste a uno dei tantissimi membri del team, più di duecento che hanno aderito a questa iniziativa e sostanzialmente riceverà assistenza per risolvere la difficoltà. Anche digitando semplicemente su Google aiutiamo la scuola, veniamo fuori. Quindi diciamo possono vari modi per contattarci. Una cosa molto importante, abbiamo anche un gruppo Facebook che si chiama il gruppo di Aiutiamo la Scuola, dove iscrivendoci a questo gruppo si possono trovare tanti consigli già direttamente da tanti esperti che si sono inseriti all'interno del gruppo, quindi delle risposte immediate e quindi si può risolvere il problema anche tramite questo canale. Questi sono i canali, il sito internet e il gruppo Facebook. Grazie.